salve in questo secondo video ritorniamo a parlare di canali rgb avevo detto nel video precedente che ognuno presenta dei valori numerici che vanno da 0 a 1 ma ho mentito sapendo di mentire il fatto è che i dati digitali qualsiasi dato e non solo le immagini devono essere rappresentati da bit che è il livello minimo di informazione 0 oppure 1 quindi algebra binaria cioè base 2 eccetera ma non importa se non siete matematici e non sopportate questi numeri e tutto quello che segue si può capire benissimo senza matematica l'uso dei bit ci porta al concetto di profondità di colore o risoluzione di colore delle immagini in inglese bit depth usualmente in ambito consumer campioniamo le immagini a 8 bit per componente di ogni pixel si dice anche che l'immagine complessiva ea 24 bit o true color quindi 8 per componente in realtà diciamo 8 bit per canale anche se è un imprecisione perché il componente riguarda un singolo pixel mentre il canale riguarda tutta la griglia di pixel ovvero la totalità dell'immagine però ormai è di uso comune parlare di profondità di colore ad 8 bit per canale e così farò anch'io con 8 bit per canale abbiamo 256 possibili variazioni di tonalità lui all'ottava uguale 256 cioè l'intervallo di variazioni tonalità va da 0 a 255 per i tre canali insieme arriviamo a più di 16 milioni di colori dato da 256 per 256 per 256 per 256 per 256 oggigiorno gli 8 bit cominciano ad essere sostituiti da campionamenti a 10 bit che portano a 1024 sfumature per canale 2 alla 10 uguale 10 uguale 1024 e ha più di un miliardo di colori complessivamente pensate che per produzioni cinematografiche usano canali a 16 bit se non addirittura a 32 bit ma il calcolo lo lascio fare a voi perché non ho voglia di scrivere tutti quegli zeri servono davvero tutti questi colori non sono troppi si servono considerando che il mondo reale a variazioni senza soluzione di continuità cioè infinite sfumature si arriva sempre al momento in cui la nostra conversione in digitale in gergo tecnico quantizzazione si mostra insufficiente e compagno delle bandenette di separazione dei colori più o meno evidenti invece di avere sfumature continue si hanno delle bending o posterizzazioni anche se il termine esatto sarebbe artefatti da quantizzazione si vedono bene il maggior numero di tonalità nella foto a 10 bit e la mancanza di clipping rispetto alle foto a 8 bit si vede bene anche l'esempio del bending e di quanto possa essere antiestetico oltre a comportare problemi in fase di color correction in poche parole c'è un parallelo fra la risoluzione spaziale e la profondità di colore che infatti si dovrebbe più propriamente chiamare risoluzione di colore più è alta la risoluzione spaziale e più dettagli cioè informazioni riusciamo ad immagazzinare le due risoluzioni hanno la stessa origine cioè i fotoni che arrivano sul sensore e vengono trasdotti in segnali elettrici ma a noi conviene trattarli come separate per comodità di lavorazione facciamo un esempio campioniamo un frame a grande profondità di colore per poter disporre di molte informazioni per esempio a 10 bit per avere un miliardo di tonalità circa però l'immagine è di solo 100 per 100 pixel cioè 10.000 pixel in totale ogni pixel può portare solo un valore di tonalità a scelta fra un miliardo quindi in totale il frame può contenere al massimo 10.000 tonalità e tutte le altre? semplice non possono essere registrate e quindi vengano perse se il mondo reale rappresentato dall'immagine ha fino a 10.000 tonalità allora la quantizzazione dell'immagine sarà fedele ma questo è impossibile succeda nella pratica quindi noi campioneremo con 10.000 tonalità un'immagine che verosimilmente ne avrà infinite di più e otterremo una grossa perdita di informazioni cioè di dati colore otterremo in pratica la fiera del bending è proprio un problema fisico si può dire non ci sono pixel sufficienti a rappresentare tutte le variazioni di tonalità ma ancora non ho parlato del perché vi ho mentito in precedenza come detto poco fa con 8 bit per canale si hanno 256 valori possibili quindi un pixel viene descritto da per esempio la terna 10, 250, 198 cioè sono numeri interi fra 0 e 255 non fra 0 e 1 come avevo detto in precedenza il fatto è che conviene normalizzare la tripetta di valori RGB nel caso degli 8 bit si divide ciascun valore per 256 e si ottengano valori fra 0 e 1 nel caso di 10 bit si divide per 1024 e si ottengano sempre valori fra 0 e 1 e così via questa normalizzazione è stata decisa e adottata per convenzione nessuno ci obbliga a farlo ma ci sono delle facilitazioni e vantaggi che fanno sì che in ambiente professionale sia ampiamente utilizzata meno invece in ambito consumer il vantaggio principale è la possibilità di usare i numeri a virgola mobile invece dei semplici interi che portano ad una maggiore precisione di calcolo il rovescio della medaglia è una maggior richiesta di risorse hardware altro vantaggio di floating ponte è l'omogeneità dei risultati e dei calcoli quando abbiamo a che fare con più immagini ognuna con una diversa profondità di colore visto che tutto viene normalizzato ci ritroveremo a che fare con numeri omogenei fra di loro cioè sempre compresi fra 0 e 1 qualunque sia la loro risoluzione di colore infine l'uso dei floating point ha il vantaggio di non limitarsi all'intervallo 0 1.0 ma possiamo avere anche numeri superiori a 1 oppure negativi si parla in questi casi di immagini HDR height dynamic range dobbiamo capire che quando parliamo di profondità di colore di 8 bit o 16 bit o qualunque altra stiamo parlando di calcoli con numeri interi il vantaggio di normalizzare e usare i numeri a virgola mobile è proprio questo possiamo arrivare al decimale che vogliamo qualunque codifica scegliamo di solito 16, 32 o 64 bit addirittura possiamo andare sopra 1 o sotto 0 arrivando anche a numeri esagerati che nella realtà è impossibile trovare per esempio sfumature dentro il disco solare in piena estate con i floating point possiamo usare tali numeri comunque anche se sono irreali è per questo che sono necessari nelle immagini di tipo HDR a proposito Sineller ha il pieno supporto per i numeri a virgola mobile impostando nel progetto RGB Float o RGB A Float e in questo modo lavorerà con una precisione a 32 bit ricapitolando le informazioni date si può capire come funziona un sensore che registra un video o una foto il segnale che gli arriva è analogico segnale elettrico causato dal numero di fotoni ma questo viene convertito in digitale in tre passaggi il primo è il campionamento definito in megahertz e rappresenta l'intervallo di tempo in cui prendere i dati il secondo è la quantizzazione che determina l'ampiezza di dati considerati si misura in bit ma non sono gli 8-10 bit di profondità di colore di cui abbiamo parlato finora i primi riguardano il numero di intervalli o livelli della quantizzazione a 8 bit rispondono 256 livelli queste righe in pratica sono 256 quando si ampiono a 8 bit mentre la profondità di colore riguarda la memoria usata per indicare i colori all'interno di uno spazio colore questi riguardano un terzo passaggio della trasduzione cioè la codificazione ma noi non approfondiremo questo passaggio costruendo un grafico in cui la scissa è il tempo e in ordinata c'è l'ampiezza del segnale elettrico inviato dal sensore quindi un segnale analogico si può dire che il campionamento riguarda la larghezza dell'intervallo di tempo e la quantizzazione riguarda l'altezza dell'ampiezza beh fermiamoci qui perché ho spiegato diversi concetti abbastanza difficili nel prossimo continueremo il nostro discorso sulle immagini digitali parlando di esposizione di latitudine riposa quindi quindi